Restauro posticipato di qualche ora, previsto infatti per ieri e che slitta domani per il monumento in legno che simboleggia lo scheletro della prua di una barca nel lungomare di Sassonia. L'opera, dedicata alla vita marinara, rappresenta un segno tangibile della riconoscenza verso uno degli aspetti più importanti nella nostra comunità ed è inserita in una passeggiata molto suggestiva in città. La barca era stata danneggiata nella notte di Capodanno ma non sono state mai chiarite le dinamiche di quanto accaduto. C'è chi parla infatti di atto vandalico, incivile e stupido e che attribuisce il danno alla rottura dei tiranti che la ancoravano al terreno, dovuta forse alle raffiche di vento. Lo preleveremo con un camion, lo metteremo in un magazzino, sarà completamente restaurato e poi ristallato successivamente, quindi non è un'operazione banale. Doveva avvenire ieri, avverrà domani pomeriggio, questa sistemazione, questo restauro che comunque era doveroso per un monumento così importante, costerà diversi migliaia d'euro e tutto questo a causa dei vandali che hanno deciso di colpire questo monumento in maniera insensata. Ma la passeggiata infatti sarà protagonista di altri importanti interventi. Questa passeggiata è stata interessata a uno stanziamento di circa 50.000 euro per rimetterla a posto, in particolare pensiamo a quegli spazi che una volta c'erano ed erano fatti il legno dove la gente si poteva sedere, li recupereremo sostituendo il legno con altri materiali, quindi facendo un salottino.